Spari, riuscì a saltare dall'altra parte del muro un anno prima del novembre dell'89. Quando la notizia in pochi minuti si diffuse nella Germania Est, al Ministero dell'Interno un silenzio assordante prese possesso dell'edificio finché uno dei funzionari non disse la famosa frase No, spari no, tutti ma non lui.